Dimmi cosa vedi. Una ragazza. Spaventata. Perché è spaventata? Perché non sa chi è. Cos'altro puoi dirmi di lei? Cerco di aiutarti con le tue visioni. Non sono visioni, è reale. Dammi una possibilità. Per favore, togli la benda. Non è una ragazza. Sono due. Tu sei una di quelle due ragazze? Dovrei. Ma non ne sono sicura. Quindi le due ragazze sono estrani? No. Mi sembra di conoscerle. Ma ho la sensazione di non essere nessuna delle due. Che cosa provi quando le guardi? Tristezza. Rabbia. E paura. Di cosa hai paura? Che escano dallo specchio.